Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per un incidente. Restano soltanto code in uscita allo svincolo di la Strassigna. Ci sono poi lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. In A1 code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. In direzione Bologna chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e lo svincolo di Firenze in Pruneta. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!